Buonasera, sono molto contenta di aver avuto l'opportunità di partecipare a questo bellissimo evento e di aver potuto parlare dell'operosità, della tenacia e della determinazione delle donne. In particolare Soveria, che è la città dove vivo anche se il lavoro mi porta fuori, questa scoperta con la curiosità che contraddistingue le donne con l'aiuto dell'amministrazione di Fiori di Lino abbiamo scoperto che sin dal dopoguerra il 90% delle attività commerciali, artigianali erano intestate a donne e questa donna ha contribuito all'espansione e a quell'epoca l'ha tenuta perché il dopoguerra si usciva da una crisi e la donna con il suo lavoro e con tutte queste attività in controtendenza con le altre medie, ha contribuito a rafforzare un tessuto sociale e anche culturale perché come diceva il professore Caligiuri sono state le donne ad educare quelle persone che adesso fanno anche grande Soveria. Perché si deve partire anche oggi proprio perché c'è stata questa continuità produttiva, quindi qualcosa ha funzionato già da prima, anche oggi con quasi il 50% e più delle attività gestite da donne tra società, ditte individuali, professioni e arti e questo significa che il contributo della donna è fortissimo e che si può partire dall'antico innovando e conservare le radici. È una speranza quella di cercare di fare rimanere giovani partendo dagli esempi passati che hanno dimostrato che si può e si può perché a Soveria Mannelli in piena crisi hanno aperto tanti negozi sempre gestiti da donne, ha aperto questo lavoratorio artigianale rivalutando l'antico mestiere di Sarta dove tutti possono andare a imparare questo mestiere gratuitamente. E quindi la donna si muove, si muove bene, la donna diffonde bellezza, diffonde cultura e credo che la donna non dimenticherà mai e questo voglio che lo facciano anche i maschietti, di diffondere la cultura della parità di genere. La parità di genere perché siamo uguali ma diversi. Uguali perché abbiamo pari dignità e perché andiamo rispettate e perché donne si nasce, uomini si diventa rispettando le donne e perché dobbiamo fare squadra per continuare a lavorare, uscire con le nostre forze da questa crisi e evitare in tutte le forme possibili questo dilagare della violenza. Grazie. Grazie.